Ecco la pasta alla norma, un piatto tipico siciliano. Io ve lo presento alla mia maniera. Ancora a ottobre abbiamo il basilico e lo useremo per fare questo piatto. Pochi ingredienti per un piatto eccezionale. Partiamo dall'aglio, basilico, pomodoro, melanzana, ricotta salata e la pasta che sono i sedanini rigati. Oltre all'olio extravergine, il sale e l'olio di semi per friggere le melanzane. Io uso sbucciare la melanzana. La melanzana si può sbucciare sia col pela patate che con il coltello. Io preferisco sbucciarla con il coltello perché mi dà più soddisfazione. Però si può sbucciare in tutti e due modi. La ricetta originale prevede le melanzane con la buccia. Io le preferisco senza. Dopo averle sbucciate, le taglie un po' a tadolini e un po' a listarelle. Ora mettiamo in un tegamino l'olio di semi per friggere le melanzane. A questo punto bisogna lasciarle un po' di tempo per raggiungere il grado di temperatura. Per controllare il grado di temperatura ci sono varie opzioni. O ci sa la sonda, quindi quella di grado di temperatura, oppure si usa un po' di farina. Quando si vede che è caldo, si punta la farina se soffrigge subito e pronto. O alcuni fanno con lo stecchino. Prendono uno stecchino, lo mettono dentro. Quando soffrigge un pochino è pronto. Difatti ora un altro minuto ed è pronto l'olio. Come sapete a me piace molto l'aglio. Quindi tritate aglio abbondante, metterlo in un tegame con l'olio extravergine di oliva e rosolarlo. Ecco il nostro basilico appena raccolto. Ha un profumo incredibile. Verrebbe voglia quasi di mangiarlo così. Ora si taglia per metterlo in padella insieme all'aglio e al pomodoro. Quindi aggiungere il pomodoro. Io uso la passata fatta da noi. e cuocere per circa dieci minuti. Quindi in olio di semi le friggo. La faccio passare dopo sulla carta assorbente per asciugarla bene. Ed eccomi alla scelta della pasta per la ricetta della norma. C'è chi ci mette le penne, c'è chi ci mette quelle rigate o quelle lisce, chi le mezze maniche, chi i paccheri. Io uso i sedanini rigati perché per me prendono il sugo in un modo giusto. In una pentola quando l'acqua bolle mettere il sale e quindi la pasta. Cuocerla al dente. A questo punto nel tegame del pomodoro aggiungere la melanzana dadolini e la pasta. Adesso aggiungete la pasta un po' alla volta nel tegame con il sugo. Far amalgamare ben bene. La ricotta deve essere ben stagionata sia per grattugiarla perché anche dà sapore migliore alla pasta che facciamo. Io l'ho grattugiata un pochino prima. E adesso prepariamo questa deliziosa ricetta. Dalla padella prendo la pasta già condita, la metto sul piatto aggiungendo le melanzane fritte a listarelle, il basilico e una bella manciata di ricotta salata. Ecco pronto. Assaggiamo questa pasta. Questo vuol dire che con pochi ingredienti si può fare una pasta alla norma, come la norma di Bellini, eccezionale. Sentiamo un po'. Siamo al massimo. Credo che il nome più giusto non ci sia. La norma di Bellini è nel piatto e si degustano in un modo speciale, buonissimo. Con questa ricotta salata che gli dà un gusto particolare. Ciao, alla prossima! La pasta alla norma, ci sono due versioni perché si chiama norma. Una che è un musicante della norma, quando assaggiò questa pasta, disse che è eccezionale come la norma. L'altra che un cuoco, al momento della presentazione di Bellini della norma, fece questa pasta e in onore di Bellini e della norma la chiamò pasta la norma. Io non so qual è il giusto, però ve l'ho detto i due motivi perché si chiama norma.